Trasferta napoletana dell'Olimpia Cedas Sulmona a San Giorgio a Cremano nella giornata del 25 aprile. L'iniziativa ha coinvolto i nati dal 2007 al 2009 che hanno giocato con i parietà dello Sporting San Giorgio ed è nata in seguito i contatti presi dal responsabile della scuola calcio sulmonese a Del Moramunno. L'evento ha messo a confronto due realtà affiliate con club professionistici, l'Olimpia Cedas con il Milan e lo Sporting San Giorgio con il Valencia. Siamo ospiti ma ci sentiamo a casa nostra, un'ospitalità fantastica, una struttura stupenda. Sotto lo sguardo del Vesuvio bambini e ragazzi si sono divertiti sui campi in erba sintetica dello Sporting Club Village, ambiente ideale per svolgere questo tipo di attività curate dalla SSD Sporting San Giorgio presieduta da Ciro Rauso. Avendone una struttura composta da tre campi di calcetto, un calciotto e un campo A11, avevamo pensato appunto di invitarli e loro hanno risposto al nostro invito. Le potenzialità che un'ampia struttura del genere riesce ad offrire fanno solo invidia ad una città come Sulmona che esprime invece l'esatto contrario a causa di impianti inefficienti. E quanto fa notare il tecnico dell'Olimpia Cedas, Marco Siani. A livello di strutture e infrastrutture sportive stiamo ancora indietro e quindi noi aspichiamo che l'amministrazione comunale prenda dei provvedimenti ma anche nella sistemazione dell'impianto del Mezzetti. L'aver conosciuto una realtà importante come quella di San Giorgio a Cremano ha reso soddisfatti i genitori e tecnici perché è stata utile per la formazione dei ragazzi in un ambiente sano. Imparano a stare insieme, imparano a condividere i momenti di gioco. L'agonismo e la socialità è importante. Viviamo in un mondo di telefonini, smartphone dove praticamente la cosa più importante è il singolo invece in queste manifestazioni è importantissimo per i bambini che crescono e per noi genitori. Ci troviamo bene, i bimbi si divertono, fanno lo sport, fanno quello che piace a loro e quindi è giusto così. Per la loro crescita è importante anche penso per noi tecnici confrontarci con altri tecnici preparati. Nel corso della giornata di sport e aggregazione a Del Moramunno a nome dell'Olimpia Cedas ha omaggiato gli amici di San Giorgio a Cremano con i confetti di Sulmona e li ha invitati per un evento da organizzare questa volta in Valle Peligna per contraccambiare la visita.